Se mi chiedete come ho passato io la giornata mondiale dell'autismo, l'ho passata da mamma arrabbiatissima. Regione dell'arrabbiatura di mamma Sonia è stata la notizia dell'interruzione della convenzione della ASL con la fondazione MAIC per il servizio di terapia di urna nel centro dell'ex asilo d'uchessa Spazzavento, nella prima periferia ovest di Pistoia. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio il 2 aprile, giornata internazionale della consapevolezza dell'autismo. Nel centro pistoiese Elia, figlio ormai quasi maggiorenne di Sonia, seguito sin da piccolissimo dalla fondazione Maria Assunta in cielo proprio per problematiche di autismo, sino a pochi giorni fa si recava per l'incontro settimanale, compiendo passi giudicati anche della famiglia come indispensabili per rafforzarne l'autonomia. Questi ragazzi sono ragazzi che sono isolati, non hanno amici, non vengono invitati alle feste, non vengono invitati nei compleanni, non hanno la discoteca, io parlo del mio figliolo che è adolescente, non hanno un gelato, non hanno niente. Se non quel pomeriggio pestare con il suo gruppo autonomia, tant'è che lui dice oggi io esco con gli amici. I genitori fortunati, che come dice una mia amica, non hanno vinto alla lotteria questa bella pesantezza di vita, immaginano i loro figli alla soglia dei 18 anni, all'organizzazione della festa al diciottesimo anno, finalmente ti si aprono tutte le porte, sei maggiorenne, hai tutta la vita davanti. Ecco, a noi le porte ci si chiudono tutte. Ed è proprio il prossimo raggiungimento della maggiore età del figlio l'aspetto che rappresenta, dopo la notizia dello stop alla convenzione, ora in attesa di un rinnovo, ma senza ancora una data certa, l'altra fonte di preoccupazione in famiglia, tanto da spingerla a lanciare un appello per chi il progetto venga confermato. È stata veramente per noi la salvezza avere un punto di riferimento come la maica, quindi il mio figliolo alla fine del suo percorso verrà dimesso e saremo in balia, non so di che cosa, di quelle poche cose, pochissime cose che ci sono sul territorio di Pistoia. È vergognoso e questo mi riferisco, è un messaggio che lascio alle personalità che sono ora in carica, non mi interessa il lato politico perché non mi interessa, chiunque ci sia può essere bianco, giallo e rosso. È vergognoso avere sul territorio pistoiese una realtà del genere e non spalleggiare, appoggiare con orgoglio un progetto del genere.